Salve a tutti ragazzi e bentornati su Doom Siamo al livello sotterranei del Lost Mission Beh Ah, subito, ok Oh, l'avessi preso una volta Eh no, eh no, eh no, tu no Eh Armadietto 054 Scusate, vedo il codice direttamente 631 Ah, c'è inganno finalmente Chi è? Chi è? Ho sentito qualcuno No? Era una mia impressione Ok Scendiamo allora Ah no, non era una mia impressione C'è qualcun altro ancora lì Aia C'è un altro dietro, lo sento Cavolo Non dovevo prendere quel danno, è stato stupido prenderlo Allora Ragazzi, spero vi stiano piacendo le Lost Mission perché Francamente Non sono così male Certo Potevano essere Meglio Però Vieni, 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 vieni Dai, vieni Ok Eh, anche lo zombie è ucciso Adesso Ah No Come hai fatto a sopravvivere? Sto giocando male Sto giocando male Sono troppo distratto Non capisco da cosa Vabbè Forse sono troppo sicuro di me con sta doppietta in mano Devo Perché non muoiono più con un colpo di doppietta adesso? Che succede? Ecco che succede Gli imp non muoiono più con un colpo di doppietta se non da vicino Me ne ricorderò Gli avranno aumentato la vita forse Che ne so Vediamo un po' Di qua che è? Ah Ah, di qua Poi Ah Guardate, non muoiono più con un colpo di doppietta se non è da vicino Assurdo Ok Siamo a 91 Scusate Che dire Ah Questo è un PDA Che è qua? Salva i due file Ok Abbiamo preso un PDA Che cosa vuole? Questo PDA Nessuna registrazione Figli E Jenny Stiamo andando a farci Andiamo a farci qualche birra dopo aver staccato Viene anche tu Ti prometto che non andrà a finire come l'altra volta Wow Ricordi com'è stata la mattina dopo Fammi sapere A tutti i personali del sottolivello di servizio Come molti di voi avranno già saputo Jenny Lino non è più tra noi Come? Ma adesso Vabbè Gli eventi accaduti lo scorso 6 novembre non sono stati molto chiari Ma voglio assicurarvi che Lino in Aerospace sta facendo il possibile E che è già in corso un'indagine approfondita Contrariamente a quanto ho travelato Pare che il tecnico Lynn avesse forzato un armadietto contenente armi di emergenza Fornite dalla squadra di sicurezza locale Per ragioni ancora sconosciute Lynn è poi diventato ostile e ha ucciso due addetti alla sicurezza Un altro addetto è rimasto ferito nell'eroico tentativo di fermare Lynn Purtroppo Lynn è stato ucciso durante il conseguente scontro a fuoco Vi fornirò tempestivamente qualsiasi nuova informazione in merito Nel frattempo vi chiedo di collaborare pienamente con lo staff UIC In caricato delle indagini Bradley Martin Capo tecnico di servizio Bob Finalmente qualcuno si è deciso di fornire l'armadietto Non capisco perché ci siano volute due settimane per avere nuove scorte dopo un incidente del genere L'armadietto vuoto ci ricordava di continuo la tragica sorta di Jenny Non ne potevamo più Comunque ora l'armadietto 054 è stato rifornito e ha un nuovo codice d'accesso Il nuovo codice S3-1 Se qualcuno dovesse accedervi in caso di emergenza Vedi di informare i tuoi Bradley Martin Ok Quel PDA che abbiamo preso suppongo possa aprire delle porte Perché Non funziona Non c'è corrente Chi è? Traiz Li sento Eccone uno Eccone un altro Eccone un altro ancora Siamo qua Dai Non saltate Che schifo Mi è caduto proprio in testa Ma che schifo Non sono arachnofobico Però fanno schifo veramente sti cosi Ok Andiamo Perché ci mette tutto sto tempo per salire sta ascensore? È piccolino Allora Di qua Vediamo Vediamo C'è un'armatura Dove? Proprio a lei Madò Un cicciolissimo Ma È un pochino scorbito Perché Non si è Nemmeno mosso Fortunatamente Avrebbe potuto fare tanto di quel male No Ecco Eh vabbè Eh sì eh Eh muori cavolo Oh Ok Perfetto Andiamo Oddio Perfetto Non tanto Però C'è un po' di vita qui? No Sembra di no 20 minuti Eh Ogni livello Ben o male Mi sta durando Sui 20 minuti Tranne il primo Che me l'ho perso Però Di qua Nope Di qua Chi è? Ecco No Eh vabbè Arrivederci Ok 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 Andiamo avanti Un Due Tre Quattro Cin Ok Anche tu Vai giù Grazie Ok Ok Lì è dove siamo arrivati Qui c'è la chiave Ah è uno shortcut Ah Capito Ok Eccola Basta Su Ok Sembra che ero Lì preso in mano La situazione Certo Se stato Se non mi disse fastidio Sarebbe anche meglio Allora Apriamo Sistema di isolamento Disattivato Accesso A scolto livello Da parte del personale Autorizzato Consentito Ma dai È già finito È già finito Il livello È già finito Andiamo a sottolivello Due Questo livello È durato Veramente poco Ma veramente poco Ancora Sotterranei Sottotterranei Sottotterranei Ecco che sta caricando il nuovo livello Vabbè Lo sapete Caricamenti su console Sono questi Che ci volete fare Apri 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 Attraverso i sottolivelli Per raggiungere Laboratori Access Ok Bene ragazzi Vi ringrazio per essere stati con me Ci vediamo alla prossima Sempre qui con Doom 3 Lost Mission Ciao